Cane Macchina e Sleepy United Ecco subito in avanti Cane Macchina Tiro fuori di poco Sleepy United Impegna il portiere ma una posizione francamente impossibile Cane Macchina una ghiottissima chance Sleepy non riesce a chiudere come dovrebbe Cambia o meno e conclude però male Facendo scaldare i guantoni Cane Macchina al portiere avversario Qui Sleepy United non inquadra la porta con il diagonale Ci prova ancora La palla colpisce il palo Un altro tiro e la parata E poi ecco Cane Macchina una ghiotta chance Davanti alla porta non riesce Ancora questa ma forse ancora più favorevole Ma non riesce a incrociare Qui arriva il tiro che finisce sul fondo della rete Un'altra occasione per Cane Macchina Prestazione convincente di Leocomotive 1-2-3 già in vantaggio contro Canalis Giocherà una partita molto buona Leocomotive impegnandosi veramente il portiere di Canalis Qui diverse occasioni Sfiora il palo con questo bel tiro a incrociare Ancora una grandissima La rivediamo Parata Di Canalis Che poi attacca Ma trova la posizione del portiere di Leocomotive Continua però la squadra campione Ad attaccare nella ripresa Trova il gol del 2-0 Rivediamo Gol molto simile anche a quello del 3-0 Con percussione centrale nella difesa ormai aperta Partita in ghiacciaia Per Leocomotive Che esulta e insulta come al solito Il suo nemico storico Sleepy United Canalis ha un sussulto d'orgoglio nel finale E riesce a sigarare 3-1 Atletico Bolis e Atletico Novegolo Danno vita a una bellissima Partita nelle battute iniziali Va in vantaggio Atletico Novegolo Quasi a sorpresa Ma bellissimo il gol Ed è giusta la sua esultanza Prova subito Bolis a tornare in partita Lo farà soprattutto nella ripresa Qui tiro al volo non riuscito per Novegolo Ancora Bolis Che prova a raddrizzarla questa partita Alza però la mira E allora Novegolo prova a sorprenderlo Sulla prima palla Quel portiere mal posizionato Ecco Bolis che trova il pareggio Con grande sofferenza Si pensa a questo punto Che la partita possa girare a suo favore Ma eccola qui La grandissima parata La parata del secolo di Novegolo Che salva il risultato Sporting, doping e crazy lift Danno vita a una partita Dalle mille emozioni Parte bene crazy lift Poi doping impegna il portiere Dell'ascensore pazzo E va in vantaggio Quasi a sorpresa Sporting doping Che ci crede La sua esultanza La sua soddisfazione Poi però Trova un bellissimo pareggio Crazy lift Uno dei suoi tiri improvvisi Partita che rimane sempre Sul filo dell'equilibrio Ecco un altro tiro di crazy lift Che non riesce ad alzarla Questa volta Il raso terra A incrociare Va sul palo Ghiottissima la chance Anche in questo caso Alza troppo la mira Troppa potenza Per crazy lift Prova ad approfittarne Sporting, doping Che colpisce Un'incrocio Di pali Clamoroso La partita rimane Comunque ancora Sull'equilibrio Qui il diagonale di crazy lift Eccolo ancora L'ascensore Che ci prova Un altro palo Però molta sfortuna Anche in queste conclusioni La partita di crazy lift Qui però Grandissima la parata Di sporting doping Riapprazziamola Perché con l'aiuto del palo Riesce a sventare La minaccia Poi va in vantaggio 2 a 1 Si pensa ormai Sia tutto finito E invece arriva L'ingenuità Poi Nella finale Di sporting doping E vediamo Il fallo del rigore Il penalty Crazy lift Impatta 2 a 2 Pazzesca partita Il match del secolo Delude per Qualità di gioco Tarallo ci prova Molto all'inizio Mancano però Le reali emozioni Una partita un po' tesa Un po' chiusa Un po' bloccata Ecco qui Il portiere Ben posizionato Di orta continua Che evita il gol Anche in questo caso Non riesce a incrociare Real Tarallo Che non ha la precisione Di giornate migliori Lo vediamo in questo diagonale Di solito non gli sbaglia Da quella posizione Un altro tiro fuori Poi la chance Qui L'arbitro non ci dà una mano Anzi dovrebbe toglierla E la chance Per l'otta continua Che si ripete poco dopo Questa molto ghiotta Non riesce però a segnare Neanche l'otta continua Qui Tarallo continua ad attaccare Finché poi va in vantaggio Nella ripresa Poi Batti Becco Con l'arbitro Angotti Grande nervosismo L'otta continua Ci prova nel finale Con grande orgoglio Colpisce anche un palo Lo vediamo qui Poi Tarallo A 15 secondi dalla fine Realizza il 2 a 0 Che chiude di fatto I giochi per il campionato Grazie a tutti Grazie a tutti